Una ragazza ieri mi ha chiesto Perché per un uomo singolo e senza figli è difficile stare con me che sono una donna separata con dei figli? Cerco di spiegartelo nel modo più semplice possibile. Innanzitutto ci sono più responsabilità. Di base sai che un uomo odia le responsabilità e gli impegni, soprattutto all'inizio. Entrare improvvisamente in una situazione dove ci sono anche dei bambini coinvolti per tanti può sembrare troppo da gestire. Uno si richiede Ma con 9 miliardi di persone Perché devo andare proprio a incasinarmi la vita? Poi ci sono anche delle priorità che sono molto differenti. I bambini vengono sempre prima di tutto. Se un uomo è abituato ad essere al centro dell'attenzione questo per lui potrebbe essere un grosso cambiamento. Se ne accorge oltretutto anche subito. E questo potrebbe essere un grosso deterrente. E potrebbe essere usato anche come scusa per alzare i tacchi. Quanto numero 3 Un uomo da una relazione vuole una vita tranquilla. Vuole soltanto stare bene. Con figli e ex sempre di mezzo. Ci sono delle dinamiche complesse da gestire. Magari vi state ancora facendo la guerra. È complicato. Capisci? Poi ci sono anche delle esperienze di vita diverse. Se non ha figli potrebbe avere delle difficoltà a capire che cosa vuol dire essere genitore e le immense sfide quotidiane che questo comporta. Poi non sottovalutiamo anche i ritmi di vita completamente diversi. I bambini hanno delle routine e dei bisogni che possono limitare le tue uscite o i viaggi. E questo potrebbe creare ansie, disagi, frustrazioni. Qualcuno potrebbe essere anche preoccupato di dover aiutare finanziariamente i figli di qualcun altro. Non è da sottovalutare questo aspetto. Infine, ci sono gli impegni a lungo termine. Entrare in una famiglia già formata può portare aspettative e pressioni che forse un uomo non si sente pronto ad affrontare. Ecco, se incontrassi già un uomo con dei figli magari nella tua stessa situazione separato, divorziato anche lui sarebbe più facile perché lui potrebbe avere le stesse priorità conoscere le dinamiche e avere il tuo stesso stile di vita. Comunque ti posso dire anche la mia perché è capitato anche a me di vivere questa situazione ed è vero, è tanto complicato sotto certi aspetti. È davvero difficile però è anche una cosa meravigliosa. Grazie per la visione! Grazie a tutti!